Una sera alcuni apostoli uscirono a pesca sul lago di Tiberiade. Restarono fuori tutta la notte, ma non pescarono nulla. Quando il sole spuntò, si diressero di nuovo verso la sponda del lago. Arrivati vicino alla riva, videro un uomo sulla spiaggia, che chiese loro, avete preso qualcosa? Neanche un pesce, risposero. Provate a gettare le reti dalla parte destra della barca, disse allora all'uomo. Fecero come aveva detto e rimasero di stucco. La rete traboccava di pesci. Fu allora che Pietro capì che quell'uomo era Gesù. Pietro si buttò in acqua e nuotò verso riva, lasciando gli altri apostoli a tirare la rete. Gesù intanto aveva acceso un fuoco per arrostire il pesce, quindi mangiarono tutti insieme.